...dare ai detenuti stranieri la pena nel loro paese d'origine è possibile? Non è una cosa semplice perché intanto occorre la parte del detenuto alla volontà di farlo perché non si può deportare nel paese d'origine oppure occorrono accordi con i paesi d'origine. Stiamo lavorando con molti paesi d'origine perché naturalmente per noi sarebbe molto significativo ma non abbiamo ancora, tranne che con la Tunisia non abbiamo ancora grande intenzione con gli altri però ci stiamo lavorando.